Sindaco parliamo della Team, il prossimo 22 settembre dovrebbe insediarsi un nuovo consiglio di amministrazione, ieri la notizia che i conti di Gavioli sono stati dissequestrati. Sì, sono stati dissequestrati i conti della Team, io preciserei, nel momento in cui a gestire la Team c'è la parte pubblica, cioè c'è il comune nella persona del presidente Raimondo Micheli, quindi questo vuol dire che la procura ha fiducia nella gestione della parte pubblica, tant'è che ha dissequestrato i conti. Rientriamo in possesso di una parte dei soldi che erano su quei conti, circa 900 mila euro, che ci servono per pagare gli stipendi, per pagare l'attività ordinaria, sempre sotto il controllo della custodia, come giusto che sia, però insomma è un passaggio importante, a meno di un mese dagli avvenuti fatti, è un fatto importante perché, ripeto, la procura si fida nella fiducia del comune di Teramo e della parte pubblica, che ha sempre amministrato nell'interesse pubblico, e questo io l'ho ripetuto più volte, anche se qualcuno ha cercato in vano di provare il contrario. Che succederà adesso? La Team diventerà una società in house completamente? Guardi, il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, quindi dobbiamo entrare in possesso del 49% delle quote, che sarebbe quello della parte privata. Lo faremo colloquiando con la custodia, come io ho già fatto, come ho già rappresentato questa esigenza, e anche con la procura e vediamo se magari ci riusciamo anche nei prossimi mesi. Nel frattempo adesso portiamo avanti l'attività della Team, che è un'attività importante per i servizi che offre la città. Per quanto riguarda la Teamtec, di cui non si è parlato più, la parte tecnologica, a che fine farà? Ma guardi, sulla Teamtec dobbiamo un attimino vedere quello che la Regione decide in merito alla programmazione regionale, quindi siamo anche lì in attesa, siamo in una posizione di attesa relativamente a questa situazione. Gavioli si è dimesso anche da amministratore della Teamtec, quindi vedremo anche questo nelle prossime settimane che cosa succederà.